Ciao a tutti ragazzi, bentornati su TheGamerLand Oggi siamo qui con questo magnifico stack, madonna Sono Omni e siamo qua su Brawl Stars Ci abbiamo una missione importante, ho fatto questo video tipo 5 volte Io spero che non ci siano altre interruzioni, ho fatto la intro 5 volte, non ce la faccio più Allora, oggi, andiamo a mettere subito il non disturbare, l'ho già messo, sono fortissimo Ragazzi, oggi andremo a sbloccare la nostra amata Melody Finalmente, vi direte come mai oggi andremo a sbloccare se Omni, se ha 5 crediti su 1900 Ragazzi, ho accumulato la stravolta con voi in video questi crediti Ma non sono comunque sufficienti, ho fatto anche queste risorse Ma guardate qui i 1000 crediti della Soia 25 Che andremo a sbloccare con questa missione che mi sono preparato Manca una partita vinta o in solo o in annientamento Vorrei provare in annientamento, che è una modalità un po' più carina Se va male, subito solo e ci sbrighiamo perché io voglio giocare oggi con Melody Nel frattempo mi sono portato avanti con la Ranked Che purtroppo non è che sia tutta sta roba Oro 1, un attimo Arriverò a Diamante, ma stavolta voglio arrivare a Mity Scorsa volta sono arrivato a Diamante 2 Ma ragazzi, stavolta Mity la voglio Quindi mi farà aiutare da Achille, buh, vediamo Intanto per questa mappa Togliamo tutte queste cose che faccio per fare coppia Togliamo tutte queste impostazioni E andiamo subito a mettere per rarità Così mi oriento un attimo Per questa mappa Io metterei boh Solo che boh ce l'ho al 25 Capite bene E noi ci proviamo lo stesso Dai con un brawler al 25 Raga, metto boh semplicemente perché con l'abilità stellare Vede dei cespugli Quindi giochiamo anche abbastanza alti E speriamo di Che vada bene Allora, abbiamo una situazione un po' così Vediamo, perché Piper non è che Cioè non capisco il senso di Piper Abbiamo pure un compagno che all'inizio era fermo Benissimo Allora Ok, calmi Perché c'è una Rose che Qui in mezzo potrebbe far danno La Rose è rimasta un pochissima vita Che urto Dai Cavolo Ehm Non vedo niente con questa scritta enorme Che è apparsa dalla prima eliminazione Comunque Mane solo il boh E c'è Oh Grandi Grandi Calmi, calmi, calmi Però non andiamo Non, non, non Ah, non pushiamo Tanto Cazzo Eh Era un po' inutile pushare onestamente Tanto avevamo Ah, vero che questa non va Con le stelline Quindi basta che fai le kill Ok, però Stanno Stanno prendendo punti Non vorrei Ehm Eccola Ok Attenti, attenti Ok, l'ho messo un po' in fuga Cazzo Io non vorrei che mi uccidano i miei amici Perché vorrei Tenermi questo magnifico vantaggio Vai Perfetto Una bombetta L'abbiamo pure Grandi Ci siamo fatti pure Comunque Il separe, no? Così vediamo se arrivano i nemici Tranne Anche da questo lato Li vediamo se arrivano E infatti eccolo qua Ehm Si è messi bene Cazzo Madonna Ho parlato Ehm Mettere le bombette qui Oh ma Ha sopravvissuto Ok Non ha preso Cazzo ma la piper Ma che minchia fa Ma che cazzo fa la piper Va bene Va bene Aspetta Ehm Con calma Perché siamo comunque in vantaggio Mi farei il bo E ce lo togliamo dei piedi Devo schivare le bombette Cazzo Attenti alla Shelly Che potrebbe shottarmi E mi ha shottato Cioè mi ha fatto Manca una sola kill Raga abbiamo fatto una vittoria Con un brawler 25 Ma come è morto L'avevano affatto un colpo Raga abbiamo fatto una vittoria Al grado 25 In 3v3 Nu Tanta roba Era un po' droppato Vabbè ci riprendiamo Raga No grazie Grazie mille Del vostro aiuto Ma io ho già dato Ragazzi con questa missione Andiamo a prendere La La Il 25esimo livello E finalmente Possiamo sbloccare Melody Allora un attimo Io voglio ritentare la fortuna Perché io l'ho sempre detto Avrei preferito comunque Sbloccarlo da uno star drop E mettere tutti questi crediti Direttamente nella fama Ehm Se così non dovesse essere Cioè ora Andiamo ad aprire questi star drop Gratuiti Nella soglia sotto del pass Se così non dovrebbe Non dovesse essere Ehm Andiamo di crediti E la sblocchiamo easy Andiamo quindi Col primo star drop Ehm Raga son fiducioso Son molto fiducioso Ma ci troviamo Un semplice Super raro Quindi Nulla Andiamo con Nel primo 3 purtroppo Quindi dobbiamo essere Molto fortunati Epico Però quando Raga C'è sta regola Che quando skip al primo Cioè quando al primo skip è epico Rimane epico E infatti Mh Ha ragione Tic arrabbiato Mi fa arrabbiare Il fatto che sia arrabbiato Ma anche io sono arrabbiato Raga Ultimo star drop Ma con l'epico di prima Mh Raro 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 Raga mi fa che ce lo dobbiamo andare a sbloccare con i crediti Sarebbe stato molto bello Molto epico Cioè andiamo a prendere il graffito Carino Cioè andiamo a prendere questi bling Ho benissimo Cioè andiamo a prendere Ehm Questi 2000 punti Ehm Energia Che assolutamente Raga Mi fanno comodissimo Ma Mh Ma ne ho presi 2000 Raga Devo vedere quanto ne aveva all'inizio del video Perché Secondo me mi hanno scammato Ehm Non credo in realtà Però ok Cioè andiamo a prendere Quindi dobbiamo andare Dobbiamo ricorrere per franzi e crediti Perché io avrevo un'altra missione Faccio le 40.000 coppe Aplo star drop leggendario Fiducioso di trovare Melody Ma raga Ma le 40.000 coppe Sono ancora Cioè Qualche giorno Cioè Un attimo di ingranare Perché Ho dei brawler bassi Ma Mi sono rimasti i brawler bassi Un po' scarsini Proprio come Brawler in sé Quindi raga Io vi dico Oggi io lo voglio sbloccare Andiamo a prenderci questi 1000 crediti Che vanno su Melody E andiamo a prendere I doppi Ehm Facciamo il doppio tap Su questi crediti Ecco Raga Non mi dia che non mi basta Perché me l'ho fatto il conto Mi bastone come Ehm A me non piace molto Sbloccarli così i brawler Però raga Cioè mi piace proprio Trovarli nei star drop È un po' più figo Comunque Comunque C'è anche da dire Non si sprecano I crediti Ma raga ma Melody Melody Tanta roba Torniamo Quei pochi crediti Che avevano in più Vanno tutti nella fama E d'ora in poi Tutti i crediti da adesso Vanno tutti nella fama Tanto brawler Non escono più Raga 78 su 78 su 78 Ehm Eccola qua Io Non ho Non ho Non ho monete per i gadget Porca troia Ma io non me ne ho raccorto Di sta cosa Bel danno Vabbè Potenziamola Ehm Il più possibile Cioè Fin quando proprio non Ecco Cazzo raga ma l'ho fatta solo all'otto Io pensavo di arrivare un po' più lontano Qua In gemme Ehm Cioè ci vogliono tipo Cioè 900 Cioè no Ci vogliono una marietta di gemme Per potenziare le gemme E raga non mi sono rimasti nemmeno I Monete per Vabbè Basta non ci pensiamo più Nuovo cosa Cosa c'è di nuovo Ah ovviamente non c'è più la Mi si è tolta l'offerta Per sbloccarla Ecco C'è un'offerta di monete Però raga 79 gemme Cioè io alla fine Di questo pass Cioè con questo pass Il prossimo potrei comprarmi Una skin leggendaria Per 3000 monete Anche no La andiamo a provare In footbrawl Perché letteralmente È fortissima Raga Fiducioso E io ragazzi Spero Di non trovarmi 8000 melodi Io lo spero Manco starta la partita Forse Perché così bassi Magari Dobbiamo dargli un attimo Eccola Raga Non 8000 Ok Zero melodi Siamo Contribotta Appunto Raga è la prima Fidatevi che dalla prossima Raga è la prima volta che la uso Non l'ho nemmeno provata in campo di prova Quindi è proprio tutto nuovo Non sono Cioè il colpo su che è abbastanza veloce Però Capito Ma non fa tutto questo danno Vediamo con le Ok Ma a me raga Ma a me non sembra così forte come Cioè vi giuro La gente che la Cioè ho visto gente usarla Boh Che cazzo è sta roba E No anzi Nemmeno Raga Deludente un po' Sarò io anche che Ovviamente mi devo un attimo abituare Però ci hanno fatto goli bot Cioè Capite che Mi viene un po' da piangere Ma le ulti Ah quando muori le ulti si tolgono Ma non ci vuole letteralmente un cazzo per ricaricarsi la ulti Io Provo Ok Mi sono fatto letteralmente Un gol a caso Cioè Aspetta Non ho ben capito Perché giocare così è abbastanza semplice allora Ah ok Ho capito perché è così forte Cioè Ho capito perché in football Spacca i culi E Ok Sono curioso di provarlo con gente un po' forte Cioè Nel senso Gente un po' più Un po' più Alla mano Sono curioso di comprarmi il gadget Perché è fortissimo Fortissimo raga Questo gadget dello scudo È davvero fortissimo Quindi Io non vedo l'ora sinceramente di sbloccare In una soglia del pass le monete Siamo di nuovo contro gente un po' scarsina Però Abbiamo un team un po' più forte noi Cioè abbiamo un team decente Ehm Quindi riusciamo un attimo Un attimo a Ehm Vincerla Cioè molto semplicemente Ehm Lui Ah Questo trick non lo sapevo Grazie di avervelo insegnato Guys E io adesso gli speed E posso fare letteralmente così E non mi prende più nessuno Eh no Eh no L'ho missata però va bene Ehm Ok Che figata Posso dirlo che è figata Allora me l'ho trovata con Ah E raga Ecco un'altra cosa Le 40.000 con un brawler nuovo Vanno proprio sciolte Perché c'è 250 coppe col brawler Significa arrivare circa Al grado 15 Cioè no Nemmeno Forse di meno Non mi ricordo un attimo No Di meno Raga Non ci vuole niente Quindi Boh Straforte In più voglio la stellina Nel diamante Quindi ora andiamo a fare anche le ranked Ehm Il colpo è così veloce Che forse senza mirare È anche più forte E devo un attimo difendermela così Ah ok Me l'hanno passata Molto easy E io mi vado a fare una giocata Su questo lane Sì E mi faccio Una cosa No No Ok Che schifo di game Però raga Non ho ben capito le ulti Perché quando ne usi una E te ne lasci due Da Cioè Non so parlare Ne lasci due da parte Poi Ti si Cioè se muori ti si annulla Invece se ce le tutti e tre Non ti si annulla Quando muori Anche questa cosa Non l'ho ben capita Ehm Questa Jackie però Mi fa il culo Se non sto attento Ehm Grazie Faccio una cosa del genere E mi faccio Un bel gol Ok Ehm Ok che stiamo giocando contro i bot Però è davvero agile Molto bella questa cosa Ehm Un attimo Mi serve un attimo una ulti Ma fa Fa danno No no non fa danno Eh però qua mi fanno il gol Eh Amore Amore il gol No grazie Eh Godo Te l'ho messa Cioè te l'ho schivato il colpetto Ehm Passapalla Passate palla No perché ce la fa lui Ah si Grazie Ok Mmm Ci sta Ci sta Raga ma quanto C'hiamo già gradato 4 E raga guardate Si vola Cioè letteralmente Non riuscivo a fare coppe per ora Perché avevo tutti i brawler alti Comunque Ehm E' Ingranare Era un po' Mh Più difficile Cioè Brawler alti Cioè Ho tutti al 15 Non ho un brawler sotto il 15 Cioè si Oh scusatemi Non ho un brawler Cioè ho solo un brawler sotto il 15 Che è Sam Che credo sia Il mio Il brawler che Odio di più Cioè è il brawler che non so proprio giocare Tutti gli altri Mi la cavo Ma è proprio un fatto tipo Di trovare la mappa O di Magari sono in questo momento tipo Ash In questo momento è proprio un brawler scarso Ehm Quindi è più un fatto di Ehm Circostanze Qua riesco a farmi Un gol easy Perché mi hanno lasciato stare Va bene Nulla di epico Ehm Voglio le ulti Voglio subito le ulti Quindi Eccoli Aspetta Dobbiamo un attimo Grazie Eh faccio così Faccio così Faccio così E faccio così Boh Ragazzi Ragazzi Se l'avete sbloccata ieri C'era la mappa tutta aperta Volavo Volavo là dentro Perché c'è Proprio boom 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 Cioè Due Niente Scoppiava la mappa Cioè Ehm Sì Ci sta comunque Ehm Mai forte quanto kit Quando è uscito O come quando è uscito Larry e Lori Però è molto forte Per me è il brawler Più scarso Che è uscito Cioè Proprio all'uscita Tutti i brawler Sono super forti Proprio perché vogliono Che entrino in meta Cioè Se metti un brawler Che non usa nessuno Ehm Fai un po' schifo E invece no La super selle è brava Perché li mette Super rotti Li fa entrare in meta Ci fanno qua goal Mi sa Ehm Ho sprecato pure Le ulti Perché non sapevo Non so giocarci ancora Ehm Perché ero convinto Che facessero danno Cioè Io ero convinto Che la ulti Ma Perdona In che Scusami Carina anche l'emote Ehm Non ho nemmeno notato Le Le Ah ok Me la lasciano fare così Grazie Eh non ho capito Cioè Non ho Non avevo Cioè Le avevo sprecate tutte Com'è possibile Che Va bene Grazie Ehm Aspetta No Ah ma Ah ma puoi fare anche Aspetta Cioè È una cosa Ok ho fatto un goal Bellissimo Raga ma Aspetta perché ho scoperto una cosa Troppo Troppo forte No raga ma io mi faccio mezza mappa No aspetta Devo 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 Assimilare Sono contento che sto tra no bot Così posso sperimentare un po' il brawler Senza perdere Capito E E riesco anche a farmi coppere Nel frattempo Ehm Aspetta Devo ricaricarmi le ulti Purtroppo Se ne sono un attimo tutti andati Ehm Ehm Però c'è questo che mi da un attimo No ma io non l'ho usata la seconda Ma che cazzo passa sto brawler O l'ho usata L'ho usata e manco me sono accorto Seriamente Ehm Riesco a fare così Riesco a fare No cazzo ma non mi stava Per favore No vabbè Non mi stava sparando Ho detto Però non ce l'ho fatta in tempo Vabbè Ecco Adesso che ho le ulti Mi serve subito la palla Voglio 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 capire Perché per niente tu puoi lanciare una E che cazzo Puoi lanciare una ulti Ma io tipo la posso attaccare anche così Ma l'ho distrutto tipo Poverino Ehm Stavo dicendo Posso letteralmente lanciare una ulti Con la Cioè lanciare una ulti con la palla Lanciare la ulti E quindi andare in avanti E Cioè Mi son fatto mezza mappa con la palla Cioè la faccio anche senza in realtà Però ho capito Aspetta voglio provarci Tipo così 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 E raga Cioè sono arrivato Chi mi prende più Mamma mia brawler Devastante Ma io voglio giocare Voglio fare Subito gioca ancora Subito Voglio farci il grado Grado 10 15 20 25 Raga se non porto questa al 20 Perché è angelo no L'ho portato al 23 E non sono riuscito a portarla al 25 Anche se è ancora fattibile Secondo me Dobbiamo un attimo aspettare un bilanciamento Perché secondo me ancora non lo depotenziano Probabilmente arriverà un bilanciamento su angelo Però Raga non mi startano le partite Ma che cazzo passano Ehm Quindi spero Di portare anche lui al 25 Anche se ormai La vedo un po' buia Raga forza dai Sti matchmaking così lenti Dai E dai Tanto sono contro i bot Ora Ah Ecco perché Forse siamo nei matchmaking Ah ok Ah ok Raga Io sono curioso di vedere cosa succederà a questa partita E sono un attimo scioccato Scusatemi Vedo arrivare note da tutti i lati Ehm Sono un attimo Mi ha un attimo desestabilizzato la situazione Perché adesso appena avremo le ulti Saranno tipo Tutti con la ulti a spammare Eccola Sono un attimo stranito Ehm Io mi metto qua dietro così Lei prende la palla E la urto Ehm Sono un attimo confuso Troppe melo di raga Troppe note in giro Ehm Non so come andrà a finire questa partita Sinceramente Ho paura che la perdiamo Perché non vorrei perdere la win streak Capito Però Ok Aspetta aspettate No raga ma non ce la faremo mai a win Cioè O finisce in pareggio O finisce chi è più bravo letteralmente Ma qua ragazzi hanno fatto un gol assurdo Mi sa No Brava Complimenti alla Melody Complimenti alla Melody amica Ehm Che si è difesa benissimo Ma Cioè vedete È un runner così rotto che Non lo so Può ucciderne tre di se stessa Ma Le tre di se stessa possono uccidere No 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 Suka Io l'ho counterata tutta La giocata che voleva fare Io l'ho counterata Però Arriva questa E ci fanno un gol Se non respawna la nostra amica Eh È respawnata Ma stanno arrivando tutte e tre le Melody Qua Io la vedo Buia Prendi la palla Grandi Grande parata questa Ehm Io farei uno speed avanti Esatto Io ti speedo qua E Te la hito Ok No cazzo No Cazzo Potevo Qua Qua c'era un gol di mezzo Molto bello Ehm Raga Bella questa partita A meno che Non finisca Ehm Capito Cioè Non la voglio perdere Quindi Bella la partita Fino a un certo punto Ti passo la palla Perché questa mi push Ok Distrutta quella Ne mancano due Ma l'altra sta spawnando Già Quindi Raga È impossibile È letteralmente impossibile Fare gol Sia per noi Che per loro Ehm Quindi Ce lo vedo Un bel pareggio Ehm Forse In Cioè Totalmente a culo In Ecco Tipo adesso Con i supplementari Va totalmente a culo E Dammi Passa Per favore Cazzo Perché qua ci tirano le ulti Dovete proprio chiuderla Cazzo Io ho lasciato il buco Ho sbagliato io qua Proprio la giocata Grandi Raga Loro con le ulti Possono fare tanta roba Perché hanno tutte e due la ulti Potrebbero fare un bel gol E potremmo vincerla così No perché l'hanno uccise Le avranno devastate Ehm Ce lo possono fare loro il gol Però io prendo la palla E gliela lancio Ehm Porca troia Attenzione perché questa melodi Potrebbe fare qualcosa No Cazzo Ok C'era lui la palla Raga Appena spawno Su tutte le ulti Già un po' in avanti Arrivo Cazzo Ci hanno fatto gol Ci hanno fatto gol Raga All'ultimo C'ha gli ultimi secondi Madonna Che culo Che hanno avuto Eravamo entrambi Due team fortissimi Raga Ho fatto 25 coppe Così come se nulla fosse Siamo a 39.900 Abbiamo fatto un'altra Soglietta qui Raga Ma cazzo c'è un problema Che io per sbloccare Lo star drop leggendario Che aprirò Nel prossimo video Probabilmente Perché questa melodi Mi sta facendo fare Le peggio coppe Ehm Cioè per aprirlo Devo sbloccare Tutte le cose che ho prima Quindi quei 100 crediti Del PA 100-150 Van via I punti energia Sti cazzi Perché ancora un po' ce li ho Però comunque Sono pochi Ma le monete anche Van via Che me le volevo consigliare Ecco siamo tornati contro i bot Comunque raga La partita di prima Molto bella Cioè Anche se l'abbiamo perso È stato molto figo Combattere contro tre melodi Ehm Qua io devo fare uno speed In avanti E l'ho sbagliato anche Io non capisco Se con questo speed Ehm Con questo dash Io faccio male Cioè faccio danno Alla gente Non lo capisco Ehm Vorrei capirlo Però Però insomma Basta che leggo le statistiche In realtà per capirlo Attenzione Mh Vabbè Il goal io non Ok Ma perché mi fa il dash in più Che io non richiedo Cioè No non fa male Ma Ah la È la nota Che ha fatto quel danno Ecco ma qua La Jackie ci fa un bel goal Oh Godo Sinceramente godo molto Ehm Attenzione però Che comunque Butta via Ehm La Jackie di tosto Non me la tolgo più Madonna Ci stanno chiudendo continuamente Adesso faccio una giocata io Dammi la Eh ma se non mi dai la palla Sinceramente Grazie Ehm Grande 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 giocata La Jackie Molto brava Sì sì Ehm Adesso Cazzo Eh Cazzo Un attimo devo andare verso la palla Che è qua Il bombardino me lo tolgo easy E mi vado a fare una cosa Cazzo Ok No non ce l'ho fatta L'ho sbagliata L'ho sbagliata L'ho sbagliata Se la riprendo Sono un dio Cazzo no Però No dai che palle Madonna Ma perché non so giocare a questo giochino di merda Passa Ma perché anche lui non sa giocare però eh Non è ci voleva tanto a passare la palla Ma lì Ma togliti Ok Va bene Abbiamo fatto il gol Però raga Madonna Anche io scarsino Dovevo semplicemente andare un po' più a sinistra E poi tirarla a destra La palla Posso tirare Va bene comunque Io rivoglio la win streak Subito la voglio la win streak E ora saremo contro Non i bot ovviamente Perché sta caricando Quindi Mi sa che adesso iniziano le partite un po' più complicate Ma spero di non trovare 8 melodi diverse Dai raga però Startate per favore Per favore Cioè io credo che se entro in sopravvivenza Mi trovo 10 melodi contro Quindi in sopravvivenza anche no Sì raga Ma io volevo giocare in football Ma non carica Non carica Riproviamo Ok Caricato subito meglio Spero di essere contro i bot però Vorrei fare una partita Ecco Vorrei fare una partita Ma non una partita del genere Cioè capitemi anche Che è un po' bruttina Però ok Tranquilli Proveremo anche questo Cioè di nuovo Sperando di essere noi più bravi Stavolta Comunque letteralmente L'unico momento in cui possiamo fare i gol Sono i supplementari Gli tiro la palla Quella melodi la Che è stata brava a prendere campo Ma lei col gadgettino Fa danno Cioè fa tanto danno Qua c'è un altro gadget Ma raga ma sono l'unico Che voglio la star power Voglio tutto Raga Letteralmente È fortissima Solo che non ho le monete Shoppo le monete Basta Adesso vado a shoppare Scherzo ovviamente Perché mi stanno finendo i soldi Raga Ho shoppato così tanto Su questo gioco Ci hanno chiuso Ci hanno chiuso tantissimo Ehm Ho spiegato pure la ulti Guardate qua Che cazzo sta succedendo Raga vai Fateci sto gol Però Chiudiamo sta partita Che è agonizzante Letteralmente Devo lasciarmi dash Per dopo però Un po' coglione io Io me la pusho subito Perché vorrei subire dash Ehm Ma c'è l'oro Eccola Eccola Eccole Eccole le bro Che fanno i dash Ehm Aspetta perché Aspetta perché Aspetta perché No raga No Qua è colpa mia Qua è colpa mia Ragù Scusatemi Aspetta perché Prendo la palla Sì ma c'è ancora Le due melo di là E devo difendere l'oro Io faccio una tirata così No Me l'hanno presa Ehm Ok Ok Raga Tranquilli Non sto piangendo Mi è solamente entrato Un rinoceronte Nell'occhio Ehm Voglio finire questa partita Basta Non ho veramente più voglia Di giocare così Cazzo Mi ero fatto una bella giocata Però Anche se in realtà Non l'avevo toccato Cioè mi ha fatto tutto solo Perché non stavo toccando Io quei tasti Però Ok Ehm Ti do la palla a te però Non dovrei tirarla al centro La palla in realtà Ehm Me la passi Grazias Gliela passo a loro Tanto La ripasso là Prendo danno Come se nulla fosse Letteralmente Io ti rubo la Cazzo E questo gold Come glielo racconti Ok Bravi Bravi Va bene Ragazzi dopo questa sconfitta Molto Cioè mi viene quasi da piangere Io concluderei Il video Spero che questo video Vi sia piaciuto Siamo arrivati alle 39.920 Vabbè Ci stiamo arrivando A queste 40.000 Da Omni È tutto E noi ci vediamo Domani Con un prossimo video Ciao a tutti